... ... ... ... ... ... ... Laga, ci penso io. Is it on? Ragazzi comincia il campionato, vi aspettiamo numerosi, accorrete al palazzetto, ciao E' cancellato? Sì Ciao Ciao Come work with me Hi fans, we love you I'm from Keisha and Jamie Canada and Americana Come out to our game on Saturday Woo Oh Oh Siamo pronte, vi aspettiamo tutti tra una settimana, cominciamo! Vi aspettiamo numerosi! Tanto la tagli, vero all'inizio? E taglierà tutto 시작i Grande Queste Iscriviti Anni